Allora, ti rivolgo alla prima domanda che hai fatto oggi ai bambini, quando gli hai chiesto di presentarsi, quindi che cos'è importante per te? Ah sì, ho chiesto ai bambini di dire una cosa importante, non la più importante perché altrimenti è caricata di un peso enorme, però una cosa importante, perché durante la giornata ci sono dei momenti importanti, altrimenti non importanti, quindi che cos'è importante per me? Ma oggi? Oggi l'importante è essere a contatto con gli altri, è stata una giornata con i bambini e ho conosciuto 21 persone nuove e questa è stata una cosa insomma è un fattore di porti better out, è stata una cosa contenevole. Infatti da oggi per quattro giorni sarai in compagnia di 21 bambini e quindi com'è per te questa altra avventura perché è danzatrice, coreografa e in questi quattro giorni sarai anche in insegnante. Insegnare i bambini è un po' una novità per me, ho sempre insegnato a professionisti dell'età del 18, quindi l'incontro con i bambini è un po' una novità, però è come quando gioco con mio nipote, di solito gioco per davvero, quindi non ho nessun reggiudizio sull'età insomma, il mio rapporto mi rapporto in maniera naturale con la persona, anche se è una persona di età giovane, quindi è interessante perché c'è uno scambio magari un po' diverso, però non rispetto ai contenuti, magari nelle modalità con cui insegno uso altre parole e senza altro, parole che possono comprendere per la loro età, per i riferimenti culturali più che altro, però a livello di contenuti no, perché comunque nella danza si gioca, si esplora, queste cose che forse i bambini fanno anche meglio di un adulto, come in maniera molto più e cosa ti piacerebbe che si portassero a casa da questi quattro giorni, a questi bambini? Ah, delle amicizie nuove, delle amicizie nuove, perché sono tutti di qua più o meno e sì, l'altro è stato aver fatto un'attività insieme e che si siano arricchiti in questo senso, perché comunque la tecnica la studiano con i loro maestri e quindi hanno già un bel bagaglio. E qual era il tuo rapporto con la danza quando eri bambina? Io ho iniziato tardi, ho iniziato ai 13 anni, quindi già non ero più bambina, entravo nella adolescenza, ero molto seria, mi piaceva fare le cose per bene, quindi ho iniziato subito come se la danza fosse una cosa seria, la facevo al 100%, e non ero sicura di diventare una danza fisica perché avevo altri interessi, se restavo all'oscenza, quindi pensavo di fare il biochimico, e invece poi sono stata assassinata dentro la danza. E quindi quando hai iniziato, qual è stato poi il tuo sogno, quello che volevi realizzare in questo percorso? Nella danza? Sì. Ma non avevo uno scopo ben preciso, da dire voglio andare a lavorare lì o diventare famosa o... e la danza è sempre stata una maniera di conoscere le mie possibilità, quello che potevo fare col mio corpo, e quindi è sempre stata un'esplorazione sui limiti del mio corpo, su come potevo, quali erano le cose che ancora non conoscevo, dell'esplorazione del mio corpo? E quindi questo... Elena Giornotti, danistratrice e coreologista, quali saranno i prossimi progetti di Elena? Diciamo che in cantiere adesso c'è un nuovo spettacolo, in collaborazione con Ioannis Mandatumi e Nina Vallon, che sono due artisti di origine... Ioannis è sviscero, è greco, e Nina è sviscera, l'ho appeggiato in Germania, e è un trio, stiamo lavorando insieme, e quindi siamo tutti e tre autori, e adattiamo, e questo spettacolo debuterà a fine novembre a Inglise, quindi questo è, diciamo, il progetto a questo termine. E su cosa state lavorando? Siamo in un progetto che si intitola A Persona, quindi A, persona, tutto a tre caso, e è un progetto che parte dall'analisi dei fattori emozionali che spingono all'inizio. Abbastanza strato, però in realtà, diciamo, sarà molto finito alla fine, dalla stazione che arriva alla fisicalità. Ultimissima domanda, che valori sono importanti per te nel tuo lavoro? Nel lavoro di datore? Sì. O anche se vuoi, in quello di insegnante, dato che qui sei in veste di insegnante, come preferisci? Ma, ma i valori sono un po' quelli, quelli che ci si può essere sempre di euro, no? Per me la disponibilità, la disponibilità verso gli altri, quella sensi, e la serietà delle intenzioni, l'approfondimento delle cose, quando si affronta un percorso, mi piace vedere cosa c'è in fondo, a qualche cavale, a fondo, e poi divertirti, stare bene, e sapere che, comunque, l'interazione tra le persone, è al di là della, di quello che poi si fa, è la, che ci, insomma, ci faccia vivere, ci faccia fare bene il piano, tutto, è molto importante.